Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati per fare il post partita di Juventus-Crotone. Ebbene ragazzi, finisce la partita dell'Allianzadium, stanno all'85esimo e la Juventus sta vincendo 3-0. Come ho detto prima ragazzi, la partita non l'ho vista, l'ho detto anche nel post partita delle 15 e della post partita delle 18, ma non potrò vederla perché devo vedere un'altra cosa. Però comunque alla fine ragazzi, la Juventus vince 3-0, purtroppo non ho visto i gol ma sono veramente molto contento di questa partita per due cose. Una perché Manzuki ci ha segnato dopo essere stato a segre per alcune partite, al 52esimo con assist appunto di Andrea Barzaldi, difensore così stranamente, sarà stato su calcio d'angolo ma poi tranquilli mi andrò a rivedere bene le scene. Manzuki ci ha appunto al 52esimo, firma l'1-0 per la Juventus, sinceramente vedendo, io ho un'applicazione sul telefono e vendendo i gol mi stavo proprio preoccupando. Ho detto come la Juventus non segna, mi sto proprio preoccupando contro il Crotone. Perché noi sempre così ragazzi, purtroppo segniamo sempre a secondo tempo, magari qualche golletto per andare sicuri nello spogliatoio e stare più sereno, allegri e i giocatori sarebbe bello. Bello magari anche fare un gol il primo tempo, però va bene anche così, sono contento, l'importante è che la parla senza chi importa. Invece segna al 60esimo un'altra cosa invece che sono molto contento, è che al 60esimo ha segnato Matteo De Sciglio. Molti hanno detto, mazza ha segnato Matteo De Sciglio, eh sì ma che è successo? Dobbiamo dargli tempo a questi giovani ragazzi. All'inizio stavo un po' scettico sulla scelta della Juventus di acquistare De Sciglio, però come hanno trattato i milanisti De Sciglio è veramente una cosa inaccettabile. Ho capito che per molti è scarso, però dobbiamo dargli tempo a questi giovani, forse non proprio giovanissimo è De Sciglio, però magari farlo giocare quando ci sta. E al 60esimo ha risposto così alle critiche che molti gli hanno dato. Complimenti Mattia, molto bravo, è lo mio stesso nome, complimenti. Invece al 71esimo dopo soli 11 minuti ha segnato Medi Benatia. Molti difensori hanno segnato il terzino sinistro De Sciglio, come detto precedentemente, assist appunto di Barzali e il gol al 71esimo di Benatia. Quindi per la Juventus è giornata di difensori, tra virgolette, ed è molto strano perché di solito dovrebbero sognare attaccanti. Ho capito che ha segnato Manzucic, però magari potrebbe anche segnare qualche volta anche gli altri. La Juventus ha fatto, vedendo da qua tre cambi, ah c'è stato pure l'esordio di Ovidess in maglia bianconera. Porello ho visto nella prima frazione di gioco che ha avuto una gomitata appunto di un giocatore, non mi ricordo se è Roten, non mi ricordo molto bene, però gli ha dato tipo una testata e alla fine si è fatto tipo, gli è uscito il sangue, mi è dispiaciuto molto perché comunque su Instagram aveva pure pubblicato Forza Italia, a Italia-Svezia. Ovidess esce al 68esimo, non l'ho visto se ha fatto una bella partita, ma poi mi andrò a informare su internet come ha giocato Ovidess, sono molto contento perché fa il suo esordio in bianconero e poi al 57esimo esce Licksteiner e entra appunto De Sciglio che fa il gol appunto del 60esimo, quindi dopo tre minuti entra e fa gol, bravo Mattia, mentre al 77esimo esce Marchisio ed entra Stefano Sturaro. Sturaro è molto indeciso a Ligri dove metterlo, cioè lo mette prima terzino, lo mette prima centrocampista, lo mette prima trequartista, veramente non ci sta capendo niente a Ligri. Però complimenti ragazzi per la vittoria perché la Juventus comunque si avvicina dopo 31 punti, acquista 3 punti e arriva a 34 punti. Il Napoli si trova a 36, se non sbaglio, sì ragazzi, se non sbaglio no, si trova infatti il Napoli a 38, l'Inter a 36, la Juventus a 34. Siamo terzi al momento in classifica ma veramente sono contento perché sono contento, almeno anche le altre squadre vanno avanti, infatti il Napoli sta a 38, l'Inter a 36, la Juventus a 34 ma stiamo attenti anche alla Roma perché il 23 dicembre, tra meno di un mese comunque ci sarà la sfida dello stadio, no, dello stadio olimpico, comunque contro la Roma perché sta a 31 punti e stiamo attenti che la Roma sta andando abbastanza forte anche se oggi è stata fermata a Genova per colpa di un certo Daniele De Rossi. Quindi ragazzi fatemi sapere voi in un commento cosa pensate qui sotto nei commenti di questa partita tra Juventus e Crutone, il Crutone sta invece quindicesima in classifica a 12 punti, a meno 5 dalla zona retrocessione, a meno 2 anzi, meno 2 scusate perché è molto corta la zona di retrocessione, a meno 2 dalla zona di retrocessione. Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, noi ci becchiamo nel prossimo video, ci vediamo domani con ben due video, noi ci becchiamo nel prossimo video, bella ragazzone, sempre forza Juve, fino alla fine e la prossima è contro il Napoli, stiamo bene attenti perché il Napoli è dura da battere a San Paolo. Ciao ragazzi!